Allora oggi vorrei farvi vedere e discutiamo assieme l'articolo di George Magnus che è professore alla Oxford University su quello che è sia una sfida che un'opportunità che la Cina presenta. All'inizio leggo qui proprio il sommario ed è questa una cosa importantissima su cui sono d'accordo. Il nuovo piano quinquennale, il quattordicesimo piano quinquennale della Cina 2021-2026 si focalizza su un sistema diciamo economico che si fonda su se stesso e quindi tende ad avere sia domanda e offerta domestiche e poi il commercio, le importazioni e le esportazioni sono un plus che la Cina continuerà a fare ma non sarà più come prima come pensiamo che l'economia cinese dipende dagli export. Questa è un po' una storia già del passato, passato remoto, addirittura già da prima del 2010 la Cina si è un po' sganciata dall'export. Forse questo non lo sanno tutti. Poi c'è una seconda frase qui, ma arriva la seconda botta. A meno che il governo non riconosca i limiti del suo sistema politico autoritario, le direttive che arrivano dall'alto e vanno verso il basso e il controllo sociale, quindi a meno che il governo non cambi tutte queste cose. È molto difficile che si possa avere dell'innovazione e quindi l'autore, l'argomento principale dell'autore è che a meno che non si cambiano questo sistema politico autoritario, se ne faccia almeno eccetera eccetera, non si potrà avere innovazione, quindi la Cina non raggiungerà i suoi ambiziosi programmi. Ecco, su questa seconda frase io sono praticamente completamente in disaccordo perché o piaccia o no e ripeto, non ci deve piacere, dobbiamo per adesso studiare la Cina, capire, capire cosa fa prima di giudicare, anche perché poi quello che penso io o altri è completamente irrilevante, non è una cosa analitica, è un'opinione che metto alla fine come addendum, ma fondamentalmente io sono in disaccordo perché in realtà è proprio questo modo di strutturare la loro economia, la loro società e anche il sistema politico con le direttive proprio dall'alto in basso che è questa forte presenza del governo centrale che invece in passato hanno consentito alla Cina di raggiungere in realtà tutti i loro obiettivi. e quindi sono completamente in disaccordo perché penso che anzi se il governo dovesse avere un approccio un po' più lazefe e quindi dare un po' al mercato più una libera, come dire, mano libera, io credo che poi a quel punto invece le sfide saranno problematiche. Questo perché? Perché in Cina l'economia è stabile e funziona e comunque il processo di sviluppo è basato sul controllo centralizzato dello Stato che decide chi, come, quando e su quali settori si dovrà appoggiare lo sviluppo economico, quindi non può essere lasciato agli individui privati di decidere il futuro del paese. Voglio chiarire, ovviamente la Cina ha tante aziende private, il mercato esiste, si possono fare soldi, non è il marxismo come l'abbiamo studiato nei libri e quindi c'è assolutamente le attività produttive sono in mano privata molto e si può ed esiste il mercato ma questo mercato è limitato alle attività micro delle singole aziende, non può arrivare invece a livello di paese perché quello è una prerogativa gestionale dello Stato ed è questa la linea, come dire, immaginaria tra Stato e mercato che separa quello che è il ruolo del governo e quello che è il ruolo delle imprese. Le imprese sono libere di far soldi, di muoversi, di innovare, tutto a patto che il loro impatto non sia di livello sistemico, macro. Questo è molto importante ed è un po' questo che è il leitmotiv di questo pezzo di professor Magnus e lui continua un po' con questo imperativo che si ritrasformi il sistema economico, il modello del sistema economico è molto urgente, invece non è vero, non c'è questa non c'è questa urgenza, è un'urgenza di, come dire, adattarsi, ma non c'è l'urgenza di rivoluzionare perché la Cina non fa mai rivoluzioni, lo so che sembra strano, il modello di sviluppo economico non è come quel Big Bang dell'Est Europa che nell'89 ha fatto, come dire, quasi overnight cambiare i sistemi politici dei paesi, no, la Cina fa un modello di trial and error, si prova, si vede se funziona e si va per tentativi quindi non c'è assolutamente nessun modo rivoluzionario, ma solo un'evoluzione lenta e molto attenta con dei test che sono limitati sempre ad alcune aziende, ad alcuni settori, ad alcune zone geografiche anche nel tempo, quindi è un sistema multivariabile che fa questi test e se funzionano poi vengono estensi al resto del paese e anche per periodi di tempo più lunghi Il quattordicesimo piano quinquennale, che vi invito a leggere, dice praticamente tutto quello che la Cina pianifica di fare, tutti gli obiettivi sociali, tecnologici, anche ambientali e quindi questa è un po' un'indicazione molto importante perché loro, al contrario di noi, che non abbiamo grandi piani loro lo hanno il piano e ce lo dicono anche La nota importante qui è che per la prima volta il piano quinquennale non comprende un obiettivo di crescita del PIL per tutto il periodo, ce l'hanno solo per il 2021 che è del 6% ma non per i quattro anni successivi e questo è molto importante perché questo cosa significa? Che la Cina, come dire, si sta lasciando per la prima volta aperta la possibilità di decidere di quanto quantitativamente e di come qualitativamente crescere loro sono abituati a dare dei target che non falliscono mai quindi questa volta loro vogliono giocare su queste due variabili e quindi non dicono una se no si fissa l'altra o si cresce di tanto ma con un PIL forse di qualità bassa, non sostenibile oppure si sceglie l'altra via ed è quello che sono quasi certo che faranno una crescita di PIL più bassa di quello che si pensa ma all'interno di questo numero più basso ci sarà una qualità migliore, ci sarà maggiore eguaglianza, più ridistribuzione della ricchezza e più verso i redditi bassi che dovranno come dire trasferire centinaia di milioni di persone da redditi proprio al di sopra appena della soglia di povertà verso quello che può essere nel corso degli anni una classe media perché a loro interessa che sia lo zoccolo duro dei consumi formato da questa grande classe media quindi loro tenderanno a non tanto accorciare le disuguaglianze tra i super ricchi e i poveri inutile andiamo a fare i rapporti tra i 1000, 2000, 5000 ricchissimi perché ci sarà sempre, non è quella la disuguaglianza la disuguaglianza è tra i 400 milioni poveri e i 500 milioni di classe media e poi gli altri 200 milioni ricchi lasciamo perdere le migliaia di super miliardiari che non ci interessano servono solo a fare statistica e quindi la Cina tende a far salire su i poveri in modo da stabilizzare e aumentare questo zoccolo della classe media si parla qui di dual circulation, la doppia circolazione e che esattamente qui sono d'accordissimo ridurrà la dipendenza della Cina sulla domanda esterna quindi sull'export quindi attenzione se c'è da vendere qualcosa in Cina questo è il momento ora, non dopo perché d'ora in poi le cose si fanno ancora più complicate questo forse da noi ancora non è stato compreso o non si vuole comprendere e tra l'altro poi anche qui è molto importante la Cina prevede o pianifica di spingere i consumi domestici delle merci che produce quindi si vuole come dire appunto rendere indipendente da tutto il resto del mondo non autarchico, attenzione indipendente significa che non dipende cioè significa che il proprio sviluppo, il proprio successo non dipenderà da quello che succede o da quello che commercia con il resto del mondo quello sarà una ciliegina che gli darà una maggiore come dire un plus ma non sarà la base ed è questo il grande cambiamento ricordiamoci, lo ripeto la Cina prima all'inizio degli anni 2000 aveva un'economia la cui crescita dipendeva dall'export adesso non è più dal 2010 l'export conta quasi la metà di quanto conta per l'Italia per l'Italia è circa un terzo del PIL per la Cina è circa il 18% e la Cina tira d'ora in poi noi consumiamo quello che produciamo e produciamo quello che consumiamo un altro fattore importante di cui forse poco noto è che la Cina ha in programma anche quello di riformare il sistema della residenza Hukou, quello che è in Cina è quel sistema che divide i cittadini rurali da cittadini urbani ogni cittadino ha una carta d'identità dove c'è scritto sono un residente urbano o sono un residente rurale e questo diciamo ognuno dei due ha dei vantaggi e degli svantaggi in passato la residenza rurale era quella che aveva più problemi perché i contadini che si trasferivano in città non avevano accesso a certi servizi di cui invece beneficiavano i residenti urbani adesso questa differenza diciamo il vantaggio della residenza urbana si è sempre più assottigliato al punto che addirittura addirittura in alcuni casi sempre meno rari è preferibile avere una residenza rurale perché la residenza rurale dà diritto alla terra e questo dà una certa stabilità una certa safety net rete di sicurezza che per il contadino che si trasferisce in città se dovesse perdere il lavoro di fronte a una crisi e essere costretto a tornare ha un posto dove tornare ha i suoi 700, 1000 metri quadrati di terreno che può coltivare questo gli dà non tanto un aiuto non muore di fame ma è una forte forte rete di salvezza come dire psicologica che fa comodo ed è per questo che molti contadini che si trasferiscono dalle zone rurali alle zone urbane addirittura preferiscono tenersi il loro residenza ufficiale nelle campagne rinunciano a quei servizi in più che avrebbero se cambiassero la residenza e la residenza urbana ma almeno sanno che la terra li aspetta qualora dovesse servire e perché appunto la Cina quindi sta come dire facendo queste riforme perché adesso si è capito che il sistema in equilibrio non è più verso le città ma c'è chi preferisce addirittura avere quello rurale e quindi si rilassano le restrizioni anzi si incoraggiano alcuni contadini a cambiare il certificato di residenza da rurale a urbano in modo che cosa succede? il governo prende in mano quella terra del contadino che può essere utilizzata per fare sviluppo di infrastrutture strade o anche trasformarlo in un cinema in un negozio o qualche sia quindi la terra adesso vale più della residenza e poi c'è un programma molto importante sulla scienza e tecnologia sappiamo che la Cina investirà circa in ricerca e sviluppo una quantità che crescerà di circa il 7% all'anno più o meno un po' più del PIL si suppone l'abbiamo detto non sappiamo di quanto crescerà il PIL ma io penso che sarà sotto il 7% per i prossimi 5 anni quindi significa che l'incidenza della ricerca e sviluppo sul PIL andrà sempre sempre più crescendo e questo è un grande input di sviluppo e soprattutto nel settore appunto dei semiconduttori sappiamo che qui c'è una grande battaglia economica tra i coreani i taiwanesi gli americani e la Cina per chi e anche l'Europa in un certo senso l'Europa purtroppo è rimasta indietro sulla produzione di semiconduttori a tecnologie 7,5,3 nanometri che sono quelli che daranno un vantaggio competitivo a chi raggiungerà questa tecnologia prima e qui la Cina si trova indietro rispetto agli altri paesi la Cina ancora non ha veramente la capacità di fare dei semiconduttori a 7 nanometri cosa che invece gli Stati Uniti e Taiwan hanno e anche in Corea e quindi è un po' indietro e quindi sta accelerando lo sviluppo e gli investimenti in questo settore dei semiconduttori proprio per cercare di colmare questo gap e questo è il piano del presidente Xi l'unica cosa con cui non sono d'accordo che ho detto all'inizio è proprio la fine anche qui Magno conclude con sì ma qui traduco scusate velocemente ma in un momento in cui le trasformazioni le economie digitali stanno diventando sempre più importanti un paese che ha il livello di sviluppo della Cina ha solo un modo di progredire quello della trasparenza dell'apertura e della flessibilità istituzionale insomma qui è un salto logico da quello che si dice nel suo come dire editoriale qui alla fine è chiaro sì che ci auguriamo noi maggiore trasparenza maggiore apertura flessibilità istituzionale sono come dire un po' fatti loro fanno come vogliono però credo anche qui che a parte questi due termini che si sono come dire accettati universalmente la flessibilità istituzionale Magnus dimentica che loro ce l'hanno la decidono loro non siamo noi a imporla cioè loro sono flessibili quando loro ritengono che la flessibilità è utile a loro e ve lo dico io ve lo garantisco la Cina questa flessibilità ce l'ha assieme a una grande capacità di si adattano praticamente alle nuove situazioni ecco perché quando ci sono le crisi crisi del 2008 la crisi del covid sì le hanno le crisi ma le affrontano e le superano la crisi del 2008 qui è un ricordo ormai che in un blip nei grafici noi invece ancora non ne siamo usciti ancora noi abbiamo la botta del covid e loro ne sono usciti già da un anno dal covid mentre ancora lo inseguiamo quindi la flessibilità loro ce l'hanno spero vi sia stata utile questa come dire analisi del pezzo del professor Magnus che ve lo ricordo è professore all'università di Oxford e alla SOAS di Londra buona giornata